L'aforismo I giovani rocci non hanno ideali E che loro ceritori Che ne hanno consegnato solo macerie La furisma 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 la mano è sempre sempre fortissima, schierano le ali, le poedi sono fatte di penne e fanno liberare quelli che sostengono il principio assoluto, secondo che tutto era Dio i giovani d'oggi non hanno le ali, anche loro i genitori le hanno consegnato solo le tendie La fori, la forisma La forisma La forisma Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.